Qui vediamo invece una delle mie pictosculture in forma di colonna di luce. È molto bella perché riprende i particolari delle mie opere pittoriche secondo un progetto da me fatto da pochi anni in quanto ho voluto modernizzare anche questo modo di fare arte con i colori posizionandoli su delle lastre in plexiglass che sono di diversa forma e di diversa misura retroilluminate.